Buongiorno a tutti, allora come si mettono i video? Ecco questo è Dora, bellissimo video, guardate esce il link qua sopra quando si apre i video si fa, si seleziona e si copia, copia qualsiasi video di Facebook allora questo è l'articolo, siamo entrati nell'articolo, no? allora si fa così due modi, due modi, anzitutto due, meglio farti due metti qua il link, copia e incolla il link sotto e scrivi ecco la diretta con l'uscita di Matteo Garrone messi il link, si evidenzia il link e si prende questo tasto e in modo che poi fai così e diventa attivo e poi lo evidenzi e lo metti magari con il blu, blu scuro che si evidenzia va bene? Ma quello si poteva fare anche così, ecco la diretta di Matteo Garrone ecco si, si evidenzia quella parola, si mette il link e poi si mette il blu meglio così, penso questo qua possiamo pure toglierlo, l'abbiamo messo là, se no lo mettete qua e mettete questa da qua lo mettete poi mettere qua link diretta voi se guardate il sito di video ci stanno le cose, link diretta e metti qua link diretta e quindi quando attivi l'articolo esce con la diretta addirittura a livello visuale guardate che effetto fa esce e segui la diretta va bene? abbiamo capito questo? chiudi